Lo chiamano un megasciopero, quello che oggi coinvolge lavoratori di porti, aeroporti, ferrovie e mezzi pubblici in Germania. Lo hanno indetto le due principali organizzazioni sindacali tedesche, Verdi e EVG, per chiedere un cospetto aumento degli stipendi e un adeguamento al costo della vita. Numerosi aerei e treni sono già stati cancellati per quello che si prospetta come il più grande sciopero degli ultimi decenni in terra tedesca. Tutti i treni a lunga percorrenza del gestore ferroviario tedesco Deutsche Bahn non circoleranno, mentre lo scalo di Francoforte, tra i più trafficati d'Europa, ha cancellato tutti i voli regolari previsti per questo lunedì.